La stagione invernale 2023-2024 si presenta con l'incognita degli effetti numerici ed assistenziali potenzialmente attribuibili a sommarsi della diffusione del Covid e dei virus influenzali. Basandosi sui dati relativi all'influenza dello scorso inverno, è possibile che l'andamento influenzale prossimo non sarà molto diverso dal precedente. Si ritiene che il gran numero di infezioni dello scorso inverno possa relativamente mitigare i fenomeni in arrivo ha commentato così l'assessore regionale alla sanità del Piemonte Luigi Riccardi. Le azioni previste per il possibile picco combinato di influenze stagionali e da Covid-19 sono le seguenti. Per quanto riguarda il pronto soccorso, è previsto il potenziamento del 116-117. Anche in vista delle festività, verrà monitorato l'afflusso dei pazienti e proposte azioni migliorative per permettere una migliore accettazione dei pazienti più gravi e ai pazienti con vie aeree infiammate verrà eseguito un tampone per la ricerca dei principali patogeni respiratori. Che si trova in terapia intensiva, invece, e i cui sintomi sono riferibili a un'acuta infezione respiratoria o di stress respiratorio acuto, verrà sottoposto a un'indagine diagnostica si è manifestato un interesse per il riperimento di strutture residenziali, sanitari e sociosanitari dedicate all'inserimento di pazienti non autosufficienti affetti da Covid della Regione Piemonte. Questa proposta, però, è ancora in fase di contrattualizzazione. Prosegue anche il coordinamento per facilitare le dimensioni verso le strutture protette, RSA e simili, dei pazienti fragili dopo la loro uscita dagli ospedali. I vaccini contro il Covid verranno somministrati ai cittadini in Open Day organizzati dalle ASL nel periodo prenatalizio. L'assistenza domiciliare, il cui valore all'inizio dell'anno era sotto la media nazionale, ora è passata al 9% e farà fronte ai bisogni e si conformerà agli standard previsti da PNRR. La struttura farmaceutica territoriale dell'ASL città di Torino gestisce la scorta regionale dei dispositivi di protezione individuale e medici. Tale scorta include, oltre le mascherine chirurgiche, filtranti facciali, tute camici a rischio biologico, calzari, guanti, dispositivi di protezione per gli occhi. Grazie a tutti.